Siamo con Vladimiro Grieco, neopresidente di Fenagifar, appena eletto da pochissimi giorni. Ecco, subentri in un periodo in cui la farmacia sta attraversando un periodo di grande cambiamento, si sta fermando sempre di più una farmacia di relazione, una farmacia dei servizi. Ecco, quali sono gli obiettivi futuri? Per noi gli obiettivi primari in questo momento rivolti all'interno della federazione sono quella di far crescere la partecipazione, il numero delle agi, fare il numero dei nostri iscritti, perché dopo una pandemia bisogna necessariamente ripartire dai territori. Ho visto tanto entusiasmo a Cosmofarma, tanta voglia di partecipare, quindi voglio cogliere questo entusiasmo e renderlo fattivo, motivo per il quale mi porterò tutto il Consiglio sui territori italiani per cercare di finalizzare questo tipo di spinta alla partecipazione che ho visto molto spiccata. Sul tema del programma elettorale le nostre priorità sono, da una parte, dare un contributo a quella che è la realizzazione della farmacia dei servizi dal lato dei giovani farmacisti, un apporto che è orientato verso una farmacia sempre più clinica, che pesi i risultati con i dati, che metta in pratica tramite gli strumenti di cui è possibile sempre più dotarsi con questo nuovo tipo di farmacia che si sta affermando, quali quelli della telemedicina, di numeri di dati che possano far capire effettivamente quanto ormai il ruolo della farmacia è centrale, quanto il farmacista è pronto a questo cambiamento, a questa evoluzione di ruolo. Inoltre per noi sarà molto importante dar voce ai giovani colleghi italiani andando sui territori e chiedendo quali sono le loro stanze, in particolare sui temi fondamentali e molto sentiti del lavoro al Banco della Farmacia e anche all'esterno. Per far sì che i farmacisti siano pronti, come diceva, quanto è importante anche l'aggiornamento professionale proprio in questa fase di cambiamento? L'aggiornamento professionale è la linfa vitale dei farmacisti in generale, ancora di più dei giovani. La farmacia, lo abbiamo detto, sta cambiando tutti i giorni, è importante rimanere aggiornati, formarsi. Noi abbiamo delle eccellenti opportunità che ci vengono dalle nostre istituzioni di categoria, tramite la collaborazione con le società scientifiche, penso a UTIFAR, a Fondazione Cannavò, al rapporto con la SIFAC e tutte le sigle con cui collaboriamo già da anni e con cui vogliamo andare a potenziare la formazione professionale. Formazione professionale che da una parte deve potenziare quelle che sono le capacità di base del professionista, anche quelle inerenti ai nuovi servizi in farmacia, ma anche le capacità manageriali che sempre di più, anche con l'avvento dei capitali di farmacia, stanno diventando preponderanti per tanti giovani colleghi. Penso a chi vuole, chi potrà diventare direttore farmacia o acquistare una propria farmacia tramite un concorso o la vendita di una sede.